Burloni, oggi su Minecraft dovremo craftare gli Youtubers Sarà una sfida a 9 crafting nel quale chi ne completerà di più nei 30 minuti vincerà O chi li finisce prima dell'altro, vincerà la sfida Siamo insieme a Nico che anche in Facecam Ciao Nico, ti sto salutando Salutando, ragazzi non abituatevi a questa cosa perché Nico non vivrà in ufficio per sempre Direi che possiamo prendere le cose base e iniziare Allora, piccone, torno allo spawn, items da trovare e cotoletta di maiale È partito il tempo 29 minuti e 50, devo guardarmi un attimo di crafting Ma sono difficilissimi Allora, io punto a prendere tutte le teste, prima sono 9, giusto? Sì, dovrebbe essere 9 Ma scusa il blocco diamante, sai che non riuscirò mai a farlo Non c'è niente, questo da bad, oh buddy, oh buddy è loco, oh buddy è loco Le teste vengono droppate dai fiori, sì, questa cosa la sapevamo e ce l'hai detta prima, ragazze Tu pensi che noi non parliamo prima dei video, ma in realtà dovresti ricordarti che noi parliamo Oh, ho trotoxiao Io vado, anche l'ho trovato, vado a rubarti quelli più rari Nico, sono di solito Ah, eh, 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 mannaggia Ho tre, ho tre, a quanti ne abbiamo? No, non l'ho preso, cacchio Oh, sono tipo di da me No, io non te l'ho preso Porca miseria Allora, io ne ho esattamente, in questo momento, 5 Mi serve sicuramente Nico è col cactus, Nico Allora non lo voglio per fare, Nico Nico è col cactus Sto pensando, oh, Marci col Dandelion, immagino Sì, esatto, Marci ce l'ho Chi mi manca ancora? Sai che non mi ricordo Ma quanti ne hai tu scusa? Io ne ho solo 3 Io ne ho 6 in questo momento Io ne ho 6 in questo momento Scusa Io ne ho 6 in io A me manca Allora, Buddy ce l'ho Nico non ce l'ho Loco ce l'ho Non ho fere Non ho fere e non ho neanche Kendall Non ho fere Fere sono tipo le piante rosalte, dici? Eh, secondo me sì Secondo me sì Questa è... Ok, ho trovato Kendall Ok, quindi mi mancano solo fere e Nico Eh, Nico è difficile Anche Steph, scusami No, Steph ce l'ho Ah, è vero, non è il bambù, Steph No, Steph serve il bambù Che è ancora peggio Porca miseria, è vero Steph è peggio Serve il bambù, hai capito? Cioè, porca miseria Serve il bambù, Steph Questo non serve a niente A me chi manca? Io ne ho solo 5 Com'è possibile? A chi mi manca? A me serve fere Ok, però fere sono tipo le... Aspetta Sono le peonie Peonie, i lilac o le rose alte? È bella domanda questa, eh Pecchie poche miseria Uh, qua c'è un po' di roba Peonie, no? Rose alte, no? Ho trovato le rose alte E te le tolgo tutte Una sola, per favore, una In realtà era solo una Ma il lilac rose Oh, questa Guarda di là Che è troppo gentile No Ma la peonia non... È la rosa Eh, mi dispi... Era la rosa Era la rosa Vabbè, c'è una qua sotto Eh, ma non è vero Sai che cosa stavo per dare? Però adesso che hai detto Tonto c'è già Non te lo ridò No, in realtà non c'era Me la fai No Dai No Alla fine è una sfida Ma non sei gentile così Torna allo spawn Ok, allora io adesso vado in miniera Mi devo prendere un po' di roba Aspetta che ho visto una roba Porca miseria Ho visto una zucca E la zucca sarebbe per Buddy Eh, ce n'è solo una di zucca Sì, ma hai stancato Lasciami qualcosa Sì, ma le due parete Allora, a Buddy servono anche Se hai notato Il ferro Cioè, scusate, il ferro Il... Lala No, ne servono due di zucca In modo che aveva trovato La seconda zucca Oh, porca adesso questo è il karma Mi punirà Adesso non la trovi più Fino alla fine del gioco Guarda, te lo auguro Dimmi che c'è una rosa Sicuro al 100% Non trovo zucca Mannaggia quello Perché miseria Ma non è possibile Vabbè, io voglio Ci credi che hai preso L'unica rosa che c'era probabilmente No, ce n'erano due Ma no, ho visto un'altra Ok, a posto Ho Fere Easy Eh, vabbè Ma tu ce ne hai tutte Io ce ne ho tutti tra i miei Nico Allora, a me manca Nico E un altro Chi mi manca? E chi ti manca? Ti manca la Xan Non lo so No, Xan ce n'ho Buddy Chi è Buddy? Buddy, Buddy Buddy è il più difficile probabilmente Non è il tulipano arancione? Buddy è il più difficile di tutti Perché Non te ne sei accorto Ma ce n'era solo una Ma il tulipano arancione Easy Ho anche Buddy A posto Allora, io sto provando a muovermi Per vedere se trovo delle zucche Perché Il problema è che Le zucche sono fondamentali Però io attualmente Ho trovato una bellissima Spruce Island Devo stare a dire È successo Che sta cosa qua Perché Devo stare a dire di nuovo Ma che è? È una tortura Ma le zucche dove si trovano? I zucchi Le zucche Le zucche Le zucche sono nella spruce Io sono andato nella spruce E sto cercando le zucche Ah, io non ne ho le zucche Mi capisci? Io ne ho una Ma le palludi anche Possono sponare o sbaglio? Mi pare di sì Mi pare che anche le palludi Possono sponare Io mi sto muovendo parecchio Per cercare subito la zucca Ma penso che Lascerò questo compito E me ne vado da un'altra parte Sai Io in realtà vorrei un villaggio Perché se no Sai che fare il grano È tipo difficile Cioè devi avere la farina dosa Sono le bail Servono Per chi? Per te, vero? Sì, per me Sono le bail per Nico, raga Ok, io ho trovato un'altra pianura Però Anche io Siamo nello stesso posto Vediamo Io sono a 2700 O meno 1500 Non siamo nello stesso posto Siamo un po' In parto opposto Ok, meglio Però qua c'è una Oh, c'è un blocco d'oro Il blocco d'oro serviva, vero? Eh, non me lo ricordo Sto che serve il blocco di diamante Ma quello io non ce lo prendo mai Ok, io so Ma sono anche le Le pecore poverine Ok Sì, qua c'è un Un bellissimo Un bellissimo blocco d'oro Che secondo me Questo è un bel game changer Perché qualcuno con l'oro c'è Sai che l'oro è diventato Il più raro del diamante Praticamente Quindi Oddio Non ne sarei così certo, eh Non è che è difficile trovare i diamanti, eh Ma villaggio tu zero? Niente Non l'hai trovato? Oh, zero Ho sparato tre pianure Madonna Me la ho pì addirittura Mi sembra un po' esagerata Sta cosa comunque, eh Cioè Mi sembra un po' Un po' troppo C'è una miniera, basta Non cerco più nulla Fai miniera? Eh, tanto non trovo nulla Io mi muovo ancora Mi muovo ancora un minuto Per cercare Se trovo Le zucche Perché le zucche sono fondamentali, Nico Senza zucche come fai? Eh, però Tipo se io vado a scavare adesso Magari trovo più diamanti di te E posso fare fere Che tu non fai Ma quella in realtà è tipo Completamente randomica Forse ho trovato un villaggio Aspetta un attimino È impossibile È impossibile che sia un villaggio Ti giuro, ho pensato fosse un villaggio Te lo giuro Ho flashato il villaggio Eh, ma è infatti è impossibile Mi sa che da questa parte non c'è Però c'è una spruce Magari Però nella spruce non ci sono le ebay Tanto, quindi Secondo me Ti conviene scendere il miniera Poi Ma no Ma scendere il miniera anche io Sto solo cercando in F5 Se vedo delle zucche in giro Tanto per vedere qui Nada Nada De nada Caverna Oh, guarda madamarci Guarda in chat cosa appare Questa cosa non capiterà mai più Che scendere il miniera Trovo su tutto di diamanti Sappilo È tutto di diamanti trovato Esattamente Sì, proprio così Io non ci posso veramente Non ci posso veramente credere Però sai cosa? Dicevi che un horror era raro, vero? L'ho appena trovato Uh, villaggio Villaggio Ottimo Optimus Prime Questo è buono il villaggio, eh Oh, guarda cosa c'è qua Zucche Oh, mamma mia Questi zucche sono molto belle Ed è molto distante Questo villaggio da casa Non lo troverai mai Non mi serve Io mi ammazzo gli scheletri Mi faccio l'e-bay col bon meal Ma infatti l'e-bay non ci sono In questo villaggio Che peccato Nell'area c'è molta tristezza Lo sai? Che peccato Hai perso tutto? Non c'era la keep in mente Godo tantissimo Godo tantissimo Ti sta bene Ti sta bene Sì, ma dai torno a prendermi le cose Vai a prenderti le cose Dai, va a pighiarti le cose Va a pighiarti le cose Perché siamo piagni qua E piagni ancora E io non ho un pingone Come faccio? Eh, dai Ragazzi, serve Da lì Fai slash get items Ah, facile Un pochettino di cose carine Che sono le cose basi Uh, quanto ferro che ho trovato Ragazzi, attenzione Io sto veramente Sto smantellando questo post Perché non mi piace per niente Allora, il fatto che io abbia una spada È interessante questa cosa Perché, secondo me Una spada per cosa ti serve? Scusami Perché, ma se vuoi una spada Secondo ti Uh, ma c'è le ebay Vabbè, c'era anche tanto grano qua Quindi, cioè, sinceramente Le ebay non mi servivano per nulla Perché qua ce ne ho nove Bastava aspettare un attimino E adesso sto a posto, brodiero Ferro va cotto Hai visto? Devi contare Io no, ho già tre di ferro Eh, ma devi contare anche il tempo di cottura Campione, devi stare tranquillo Io sto ammazzando anche le pecore Io mi sto preparando Le pecore? Questa è una tecnica Eh, le pecore Che cosa? Per che cosa? Le pecore per bad Ah, i bad È vero È vero, è vero Io non l'ho fatto E non ci sono pecore Mi serve una pecora Mi manca l'ultima pecora Posso far bad Vabbè, spawneranno dopo Sì, vabbè Io te nello spawno in questo momento Dai Te nello spawno anch'io Tanto per cercare di capire Se sono delle pecore qua in centro Non ci sono Vado in caverna Vado in caverna anch'io Vado in caverna anche io Perché posso fare tutto? Uh, c'è una caverna qua Età della pietra Non lo so Però tu quanti diamanti hai per curiosità? Eh, cinque Me ne servono tipo Quattro No, tre più un blocco Per fare fare, giusto? No, non ho la più po' idea Eh, sono tre più un blocco Quindi sono dodici Dai Io ferro lo prendo tutto Perché può sempre servire A livello di oro Sono messo bene Perché ho tre blocchi di oro Quindi non mi serve Ho il ferro Ok Eh, caverna è uno sedici Giusto? Sì, livello dodici Per i diamanti Esatto Adesso ando scendo Le trovo dirette Guarda, con la fortuna che ho io No, no, no Sono a livello undici Attenzione ragazzi Potrebbe essere un bel colpo di scena da parte di Marcia Tu avrai dei diamanti tipo No, li ho già trovati subito io Tu non ti capiterai mai Li troverò in massimo Secondo me 17 secondi E appena siamo a 30 Impossibile Puoi non rubare dalle mie fornaci Per favore, se le trovi Ma non so manco dove sei, campione No In caso dovesse succedere Non l'ho trovato i diamanti, purtroppo Vabbè Va bene Va bene lo stesso Va bene lo stesso, ragazzi Va bene lo stesso Oh Ho trovato una Ho trovato un bellissimo Un bellissimo cosa Qui, cos'è? Ma santo Il segno L'aiuto Qua c'è tantissima gente brutta Brutta, brutta Sai che io sono morto davanti a tipo Dei diamanti Degli scheletri Che mi servono per craftare Marco E anche della Redstone Che mi servono per craftare loco Cavolo Meno male che metto di Marco Me l'ho dimenticato Vabbè Le ossa le fai subito, dai Insomma Il mio unico problema Sono i diamanti Ti ho detto Diamanti è l'unico problema E oggi Oggi il mio No Oggi il mio sono tutto il resto Quanto cosa servono? Scusa per curiosità 12 Davvero? Devi fare i bon block 12 bon block Eh sì Devi fare i bon block Devi fare gold I bon block Se non mi ricordo male Gold ce l'ho Perché mi sembra I bon block Ragazzi servono veramente Ma siete matti Per il caso Vabbè Non ci vuole tanto a farli Alla fine penso sia fattibile No ragazzi server Ho appena buttato i semini Vabbè No nel senso Ti servono per far nico Stai attento a quello che dici Che fai Nel senso Item da trovare 4 per osso Vedi ragazzi server Giusto Osso Non blocco d'osso Stupido Ma non è vero Ma controlla bene Ho scritto 4 per osso Sai che 11 diamanti Me ne servono 12 Qui ti vedo Mi vedi Sì Io ho 3 ossa E basta Allora inizio a creare qualcosa Sono stanco di girare Voglio essere producente Io senza diamanti Mi sento in difficoltà Non mi sento me stesso Non mi sento a posto Con me stessa C'è 7 16 14 13 12 11 Vada livello 10 Vediamo se Devo trovare qualcosa raga Se non trovo qualcosa Sono fregato Sono fregato Non sono fregato Sono fregato Allora Ferri del mestiere addirittura E qui si si porta avanti Guarda Look Ho trovato una caverna Con dell'oro Ma l'oro non mi stai Ho zemar Poi non è tutto Perché tu dici Magari Nikon ha fatto uno Adesso è a posto per un po' No Non è così Perché faccio Ho sbagliato No Faccio così Ho trovato una caverna io Ho diamanti Ho trovato un solo diamante Davvero? Cioè ho trovato un diamante In 1,16 E basta Uno Davvero? Però c'è nei lapis Questa cosa è interessante Solo che per marci Ne servono davvero tanti Di diamanti? Io questa che non ti faccio Sai Non mi fai? Non so se riesco Ne servono Ne servono tipo 12 Una roba del genere Ne servono anche a me Un altro di diamanti In realtà Per essere perfetto Allora vediamo se funziona La cosa della zeta negativa Mi sa che non funziona più Quella roba vero? Eh in teoria funziona In questa versione Con lapis dici vero? Eh in teoria funziona Ancora qua sono tornati indietro Che non funziona No non funziona Campione Perché dovevano essere di più Dovevano essere più lapis Ragazzi mi sta andando tutto Completamente malissimo Ma tu non stai craftando Non ne puoi craftare neanche uno Scusami No non sto craftando Ah Allora vabbè dai Ci sta Io posso fare vaddi Posso fare E basta Vabbè fallinta Oh è apparso Ace Avete ricevuto Ace Oh ok Ok per 5 minuti Non è tanto Non approfitto È un po' un vantaggio per me In realtà questa cosa Posso dirlo? Non è detto in realtà Sì Però Avete trotti diamanti Quindi È vero è vero è vero Alla a sto punto ti direi Dopo per dare un vantaggio Il nostro amico Nico Potresti Diamanti ancora Dimmi sì Potresti dirli dove potrebbe esserci No beh basta Troppo diamanti No le zucche dai Le zucche Le zucche sono in un villaggio Alle coordinanti che ti ho dato prima Ho capito come Le devi ricordare Diamanti Ok Ma prima non li ho presi Diamanti per terra Zio pera Ho lasciato un diamante per terra Ne ho solo tre Vabbè Fere come si crafta Fere No Quanti diamanti sono? Non per far tutto Scusami un attimo Eh Tanti No quanti diamanti sono? Fere quanti diamanti sono? Mi sembra 12 Però non ne sono sicuro Porca miseria 12 sono tantissime Eh non ne sono sicuro Sarebbe da controllare Perché marci sono Tre Sono tre Tre per il piccone Tre per il coso Cavolo anche io sono tantissimi diamanti Andiamo a 3 su 9 Nico 35 Eh Nico oggi mi outplay Oggi Nico mi outplay Dici sempre così Poi alla fine perdo Perché lì Perché io mi scateno Sì un pazzo Allora aspetta Facciamo così Tornano lo spawn Mangia 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 Io devo trovare Dei diamanti in questi minuti Allora io posso fare fere Sì posso fare fere Poi posso fare Basta che marci Sai Ma dove stanno i diamanti Allora Posso fare anche marci Hai tutti Hai tutti quei diamanti Giusti giusti ce li ho Per me Non sono tanti Sono 19 Hai una vincita morale Secondo me Ah Non ho trovato un diamante io Ne avrei quattro Eh ma ora mi rimango Le cose più difficili Cioè ti potevo esplorare il mondo Io ho già fatto E hai rubato anche tutte le zucche Mi sta esplorando un esercito di creeper addosso Diamanti Ehi dove siete Ci sono i lapis Ok questi qui sono quelli a quattro Quindi qua vuol dire che qua sotto Ci sono dei diamanti Z negativa Di qua Allora io ti faccio anche una pere Guarda Stuck Stuck E stuck Mi sai che non funziona più sta cosa Ma sai che funzioni uno 16 Funziona una Funziona una Non c'è niente qua campione Non c'è diamanti Controlla meglio Cerca bene Magari non l'hai visto Sai un problema Non c'è Non c'è un tubo Un tubo non c'è Per fare marci serve un'ascia vero Ascia e piccone Ascia piccone sì Ho appena trovato dei silverfish Questa è cattiva come cosa Dai ma li ho trovati subito I diamanti non li trovo più Anche Mademore sì Anche Mademore sì Tu l'hai trovato il bambù Mi stai mentendo comunque Lo capisco dal tuo tono di voce Non l'ho trovato perché Non hai bambù Zero Non l'ho trovata la giungla Campione Non lo so se mi fido In tutto ciò Altri diamanti Ma sto buttando Prima tutta la roba che non mi serve Perché veramente la situazione è brutta Sono troppo pieno di roba Che non mi serve Quindi sinceramente Ma scusa Ti elementi di diamanti Ma quanti ne hai? Attualmente ne ho pochi Ho buttato via il piccone Ne ho tipo nove No undici ne ho E dai sei quasi a metà Cioè sei più di metà in roba Ma sta cosa non va bene Nico Devo trovarne altri Prova a fare la tua solita marciata Del se non lo trovo Entro 30 secondi Allora facciamo così Se non trovi diamanti Entro 49 secondi Torni in superficie Perché sennò Perdo troppo tempo Secondo me nel cercare diamanti E cose varie E ma in superficie cosa fai poi? Scusami Urca miseria E inizio a craftare Inizio E poi farlo anche in miniera E no ma voglio andare a cercare Il bambù Il Eh ma c'è pochissimo tempo Non so se l'ha giusto giusto Ma ragazzone ci può dare tipo dei Diamanti Ok ottimo Ma quanti sono? Porca miseria Ne ho 17 Quanti ne servivano? Non ti bastano 19 Sì Pensa che due li ho pure buttati Ok Raga la tecnica è giusta Ho 16 secondi per trovarne altri Ma poi mi fermo raga Mi fermo Mi fermo Ma forse non mi fermo Continuo un attimino Non sono di parola oggi Ok Io sto facendo l'agricoltore No ma ci vuole una vita A fare tutte sti cose Ma io ce l'ho l'abail purtroppo No è finito l'hast Non ci credo Eh vabbè ci sta È giusto così Però qua dietro magari Ho lasciato qualche diamante Tipo Io non so Sono davvero tanto in difficoltà Non so Io sono a 0 gente Tu sei a 5 Eh ho capito Ma a me servono le zucche Mi servono l'abail Il bambù Ma si può avere con un altro Muto l'hast? No no eh Eh no troppo Ti dico dove ho trovato Ti dico dove ho trovato Il villaggio No 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 Sì ragazzo server se lo fa Guarda la sto guardando Se lo fa Mi arrabbio eh Ti volevo dare un e-mail Vabbè Non è vero Non me l'avresti dato C'erano tante schede Tante ossa Prego diamanti qua Diamanti qua Guarda io sono arrabbiato Con te sinceramente Perché Non trovo nulla Non sto trovando un tubo Non sto trovando Non sto trovando un tubo Vorrei proprio sapere Come hai fatto il colorante arancione Perché non lo capisco Colorante arancione Come si fa il colorante arancione E con i fiori Ma i fiori troppano le teste È vero Cavolo e come facciamo Eh non lo so Questo è un problema E questa cosa dobbiamo Sistemarla assolutamente Eh ragazzo server Mi sa che devi intervenire Eh sì Ragazzo server Devi intervenire Vediamo se appare qualcosa Nell'inventario Nell'inventario no Perché ce l'ho inventato più Oh diamanti Non ci credo Leggete bene Non ci credo Cosa devo leggere Non ho capito Nell'inventario Leggete bene Nell'inventario Non ho capito Io non c'ho niente Nell'inventario Anche io non ho niente Cosa richiede il crafting Mi stai trollando E non era Non era lana Cos'è L'inventario degli item Lana qualsiasi Ma damme Non è Ma questa cosa è pesante Oh no Niente Non è una zucca Quella neanche Posso tornare Allo spoon Io prima non te ho rubate Le cose dalle ceste Quindi per favore Non mi rubare anche a me Ok Tu non le hai trovate Le mie fornacce Quello è un altro discorso Vabbè però se le avessi trovate Te le avrei lasciate Sai che No su quello Vediamo Vediamo Io sono onesto su quello Sono onesto Non le farei mai ste cose Ok Rubo poco dai No non devi rubare cacchio Poco poco No Villaggio Hai trovato un villaggio Spero non sia il tuo Hai rubato tutte le billete No Era lontanissimo il mio villaggio È un villaggio abbandonato il mio Quelli con le ragnatele No non era esattamente quello Il mio era lontanissimo Era Sette minuti ragazzi Per trovare la follia Questa è follia ragazzi Lana qualsiasi abbiamo detto Quindi così 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 E poi Buddy al centro Ok Buddy l'ho craftato Ok Poi Nico non posso Loco posso farlo Loco l'hai fatto tu? Certo Mi ante bro Loco è difficile da fare No Ah no Nico non posso farlo Non ho il cacatus Non hai il cacatus Il cacatus È un cacatus È per te vero il cacatus Ha capito Ok Osso possiamo buttare giù l'osso Ho fatto anche Marco Siamo 4 a 5 E posso fare anche marci Cioè siamo pari praticamente Eh ma perché mancano le cose Cioè siamo letteralmente pari E del deserto Diciamo che ragazzi potrebbe dirci Magari dov'è Almeno a livello tipo di nord Sud est Ovest il deserto No Dicidi no Da me è meglio la giungla A me ne facciamo due Il deserto sinceramente È un buon del resto Decide il ragazzo server Decide il ragazzo server Un buon del resto Io ne ho 5 Però posso fare anche Candy Io arrivo a 6 Io arrivo a 6 così Eh perché tu hai Buddy In più io non ho le zucche Io arrivo a 6 Però aspetta Non è detto che riesca a fare tutto Perché adesso ho due elmetti Eh Ti serve un 20 di ferro Mi dici che non hai Nei 20 di ferro Dai No allora aspetta Posso spiegare Dai Un po' di roba Che qua se no Sono pieno di roba Che non capisco nulla Vuoi una Vuoi una Mela P? Cosa c'entra la cosa? Spero mi regalassi una zucca La giungla si trova A x 1800 Dallo spawn Mizz Porca miseria Fai lontanissimo È a 3000 blocchi 3000 blocchi Quasi No è impossibile Dai non ci possiamo andare Io ci vado Ma x 1800 Vuol dire che sei a Che è tutta dritta Ma come fai È impossibile Avanti e poi a destra No il problema è che Lui ha detto x 1800 Eh ma qui Arrivano Ma è meno 1800 1800 Eh capisci E qua è il problema Io non lo so Allora così Così Ok possiamo Dai dammi l'ultimo L'ultimo ferro E posso fare Eh ma il problema è che Anche Nico Vorrei fare Ah che sbatta Tu stai facendo che Ma no Kendall giusto Io ho appena fatto Kendall Sì Quindi mi superi Bene Ho fatto Kendall Ho fatto Kendall La giungla 1000 Ok Easy Eh ma 1800 E noi siamo a meno E la y Ma che dici Scusa noi siamo a meno 1000 Zucche posso fare anche io il battito Scusa lui dice Sì è a x 2700 E a 1800 Ma noi siamo a meno 1000 È a meno 1800 E ma x Quella è la y Quella è la z Scusami Marci sai leggere le coordinate Ah x Ma Ragazzi oggi Marci perdonatelo Purtroppo ieri sera è andato a dormire tardi Perché abbiamo giocato a un giochino particolare Ricky Towers Lo trovate anche su Marci Games Ragazzi E quindi è particolarmente stanco Marci Games Non è colpa sua E abbiamo anche Buddy Ci siamo Siamo sulla stessa wave Io sono a 2300 Tu dove sei? Io sono a Anche io a 2300 Com'è possibile? Perché avevo la caverna sola Ero più in avanti Sono tornato in caverna E poi sono tornato a su Lo sai che ti porta la versione No cavolo Sono ancora sotto sotto Ti porta la versione Se tu clicchi Torna lo spawn di nuovo Ti porta nell'ultimo posto in cui eri Ah sì 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 L'ho visto L'ho visto Ma tu sei Io sono a 2200 adesso Eh anche io Però adesso devo andare anche a destra Quindi mi sto muovendo un po' Anche verso destra Io sono a 1800 Ma sono a meno 1000 Quindi era a destra Da andare a una sinistra Hai vinto tu Io sono a meno Io sono a meno 1200 E no Non è meno Non sono tanto Ma come mi Non ci arriverò mai Impossibile Sono a 400 blocchi Io sono a 16 Anche io sono a 400 Guarda che crafti tutto Minuto 1 e 35 Ma cosa sono? È impossibile Ma tipo una speed pazza No vero? No no Non la voglio È finita Ho capito Cosa vuol dire C'è È stata una scelta Devo anche mangiare Sono distantissime Ah ma il pareggio Non mi piace Come si fa Ma è impossibile Scusami In effetti Non lo so Ah è qua la giungla Ma porca miseria E ho capito Ma come Cioè che Crafting devo fare Scusami Non posso fare niente Ah oddio Se trovo il bambù però L'ho visto anche io La jungle Jungle Ma non c'è il bambù Capisci? Non c'è il bambù Io ti capisco anche però 20 secondi Pareggio Pareggio Adesso trovo il bambù All'ultimo E dice Oh vinto Cacao quanto ne serviva? 8 Ho 4 cacai Di poco Di poco ragazzi Di poco Pareggio Va bene Basta Non è vero Sai perché ho vinto O perché avevo più cacao di te Ma vai a quel paese In realtà no Pareggio Comunque il cacao in realtà era 4 Davvero? Sì Ma avrei vinto quindi Sì perché Perché non l'hai fatto Eh ma avevo 9 secondi per farlo Tu mi hai detto che era 8 Eh io avevo il bambù allora Vedi? Sì ma tu non ce l'avevi nell'inventario Sì che ce l'avevo 7 Eh ma te siamo 8 lì Eh non è vero Ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Da Marci è tutto Ciao